Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino. Com'è possibile educare i ragazzi di oggi e quindi trarre il meglio da loro? Com'è possibile? Bisogna essere consapevoli che siamo una grande fortuna ad avere questa funzione nei loro confronti, bisogna amarli e bisogna sapere di avere delle cose da dire. Ci vuole conoscenza, ci vuole esperienza, credo che si debba sapere che c'è sempre qualcosa di meglio che si può dire fuori da un ragazzo. A volte contro le sue convinzioni, a volte mi capita di chiedere delle prestazioni anche nelle tesi di laurea, che il ragazzo dice ma io non sono capace. No, guardi che è capace, ma io non sono capace. E alla fine lo fa. Bisogna anche stimolarli, bisogna dargli consapevolezza dei propri mezzi ed evitare che siano superficiali. La scuola fa abbastanza per educare i ragazzi all'antimafia? La scuola ha fatto tantissimo, molto di meno ha fatto l'università. Il problema poi è vedere come si fanno le cose, perché in certe situazioni, faccio un esempio, se io penso di poter educare la legalità o contro la mafia, facendo venire un ospite importante, facendo un grande incontro, un grande evento che va sui giornali e poi smettere lì, non faccio una buona educazione contro la mafia. Per essere efficace c'è bisogno che vi sia la partecipazione degli insegnanti, cioè che non venga delegata all'esterno, perché anche le ricerche mostrano che soltanto se c'è un coinvolgimento degli insegnanti il risultato è un risultato di lungo periodo. Grazie mille.